Salve signori, ben ritrovati sul canale, qui come sempre di ciò che parla e benvenuti a un nuovo episodio della Swap Challenge una serie di video dove andiamo a usarli di Kerry Toplane, una serie di video interamente dedicata al canale YouTube di Star Casino gratis ovviamente neanche a dirlo, iscrivetevi al canale, seguitevi su Instagram, pagina molto carina, molto ben curata e scaricate l'app gratuitamente da vostri store mi raccomando oggi vi tiro fuori un pic, che spero me lo lasciano piccare, molto bello, molto fresco e con il quale spero di fare un game veramente, veramente buono ci vediamo sulla Landa non so se vi ricordate lo scorso episodio spero che questo dia altrettante emozioni, me lo auguro dal cuore vi porto top nella mitica Swap Challenge a Felios l'ultimo di che è riuscito strapiccato in competitivo perché ha un kit veramente molto versatile è un kit veramente, veramente sbroccato in late game e io ho pensato, beh perché non provarlo top? fare una domanda lecita allora lo proviamo siamo contro Sion dovrebbe essere un po' meno rognoso di Camille dovrebbe essere un attimino più tranquillo come champion speriamo speriamo perché un game come l'altra volta non so se lo reggo non sto a spiegarvi quello che fa il champion perché è un casino praticamente e prendetela come spiegazione buona ha 5 armi ogni arma ha determinate munizioni si possono avere 2 armi allo stesso tempo da intercambiare come vedete io in questo caso ho questo fucile e questa specie di lama quando finiscono le munizioni di un'arma che vedete su questi bordini rossi la butta via e usa l'arma successiva e le usa tutte a giro ecco non ho altro da dire ogni arma ha un'abilità che basso che sei di HP mio caro amico giungla Jax penso sia la parte peggiore e se Camilla era un problema Jax solo è per 5 non scherzo infatti mi sa che qua ci vola il flash tra poco devo controllare la minimappa in modo veramente spasmodico ogni 3 secondi ok una pozza lui l'ha usata è andato per la botta no support è andato AFK no eh mente scherzetti ok è tornato pensavo fosse andato AFK per ma ma che sono andato ad aiutare a farlo io scusami eh se si è fatto la kill da solo ma che sei scemo ho sbagliato ah vabbè non ve lo dico neanche ogni arma ha un effetto particolare tipo questa falcetta rossa che ho cura e vabbè il fucile ovviamente ha un range un po' più alto eccetera eccetera wow danni perché perché mi ha focussato la torre replay per favore ma che peccato forse riuscivo a fare il first blood ma perché la torre mi ha focussato in quel modo I'm better cosi play ranger the cheese in inglese me lo stai dicendo frizziamo non va per niente bene questo first blood Richard molto male gli do un 5 possibilmente non fare peggio di quanto hai fatto il video prima se possibile Richard se possibile vediamo i boots come sempre come prima scelta perché ci servono contro i top laner qua frizziamo cioè non pusciamo la wave ma la stitiamo i minion e basta la prossima arma che avremo sarà il graviton un'arma molto carina ops come vedete a destra adesso vediamo le munizioni che stanno man mano finendo sai non torna più comparso sto per disperso io ah era lì ci stava che fosse lì effettivamente ho l'ultimo colpo eh questo è il gravitron poi il problema che gli arriva quello shield fotonico veramente no sense quello shield jack smid fa così ok rognosetto con lo shield ragazzi wow 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 devo doggiargli la E semplicemente semplicemente devo doggiargli la E fa una free kill se venisse il jungle ah ma lui da 6 dai va questo vedete che tenta di usarla E guarda che fastidioso mamma mia ma perché tutti ce l'hanno con gli AD carry top no fuck arrabbiato proprio arrabbiato eh flash il problema è che quella E ha un range veramente 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 non dico sbagliato però un po' strano infatti mi ha preso lo stesso secondo me era doggiata e quasi quasi mi faccio i swiftness servono per forza contro di lui ma che bella skin che ha questo tipo I need help top a me non so la di minion non ho preso la pink non ho preso carretto carretto dove sei guarda sei ancora là è veramente un genio questo è l'unico modo che mi viene in mente per stare dietro di farm un'altra soluzione lux resta in vita per l'amore di dio non morirmi io ho superato di minion saion è un momento storico e che paura ho preso non gli faccio un cazzo di danni gli faccio danni ecco avete intato però ma che ci fate lì ah vabbè non ha senso scrivere niente peccato ma che cavolo ma che senso ha che stiamo lì tutti ad uccidersi ma scusa siamo molto behind fightiamo tra due ore vuole lì guarda me stia attento Sir Sion stia attento è finito il tempo dei divertimenti perché nessuno arriva a salvare zio Richard sono una persona tanto buona tanto cara ma perché nessuno viene da me l'avevo quasi chillato non ci voglio credere mamma mia full armor l'avevo quasi chillato bro no è troppo big quello eh Kha'Zix time to shine scappa scappa l'amor di dio scappa non riesco a fare questa vero ragazzi chiuso il rune non abbiamo veramente power spike poi devo fare executioner immediatamente tipo devo chiudere la swisper blu questi tre scherza non riesco a fare non riesco a fare 2 fights siamo pronti tutto quello che mi serve a portata di mano tac, primo minion ok olè adesso iniziamo a divertirci è stata la landing phase leggermente stressante ha un po' di mal di testa, non ve lo nego ne siamo usciti moderatamente bene non siamo stati gancati una volta quindi non mi lamento vediamo i danni di timo un po' bassi, un po' bassi qua è 0-4, dai si chiude questi due item dai che si chiude quei due items e diventa ma sono al baron? scusami no, sono al baron sti qua non era contestabile c'era Kzixbot eravamo fregatissimi facciamo killarlo povero continuando a fare avanti e indietro che peccato che peccato Jynx eh, Lux pazzito team eh, sì ci sono nella nostra base sostanzialmente queste adesso quindi mi sta che trovare Jax in quegli spot assolutamente posso farci tanto non posso farci tanto ho sbagliato io abbiamo anche fatto un bel po' di danni prima di andarcene 9-1 questo qua mamma I feel big now I feel very big uh, Drake eh ragazzi eh perché non eh why giocata un pelino male se mi avessi avuto l'ulti up c'era qua una full ulti faccio come i video di Youtube vedete che perché praticamente se ulti con lancia fiamme è un'arma che adesso non ho questa qui tipo distruzione di emondi comunque 4x2 è super ward questo è un baron ragazzi dai ma che fate ma pushate mid ma stiamo scherzando ehi un'arma che non lo so Eh ma ragazzi Andava startato instant il baron Ho aspettato 40 minuti ragazzi Cioè quel baron andava startato instant Mamma mia E questi qua sono dati mid Hanno pushato, sono dati qui con la calma Avevamo il dps Ero anche zix, io, lux, timo Mamma mia c'era il dps Recuperiamo Baron mi sa di no Bad 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 Si tirano dritti mid Non riesce ad essere killato? Bene Ok Ho visto scene apocalittiche Però un baron è andato giù Player col baron Non c'è più Sta di fare un po' più di danni Adesso che Cioè devo chiudere sotto Last Whisper Cavolo lì era veramente da game Quella ulti qua Ho preso 4 bersagli Secondo i miei calcoli doveva fare veramente tanti tanti danni 100 euro mi costa 100 gold C'ho i raptor qui E ho Last Whisper Quello finale Ragazzi se non mi fa far danni questo In realtà ho paura di fightare quel pike Ma in realtà lo scoppio Quasi sicuro Ok Ora mi sento Passo avanti nella confidenza Chiaramente non ho la Death Dance Che è L'item più importante della build Ho solo fresciare via l'outil di Swain E basta Ma Kha'Zix non doveva ricollare lì Torna tra noi ti prego La nostra unica Shanshu Ai 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 Nice Buon inizio Un buon inizio Mi rifullo un po' Da pushare bot Un buon inizio Mi rifullo un po' o o o o o o o Sì dai teniamo questo 1.500 gold e abbiamo into il game Non ci arriverò mai Questo game sta durando 40 minuti Ovviamente ne taglierò Una buona parte La parte più noiosa la tolgo Eh io il flash sta 3 minuti Proprio mod beat bot Pushiamo le wave E c'è il drake Io ho questa ultica è strong Ma quanto resto ho stornato? Ma resto ho stornato 2 ore E perchè focussano me? Perchè focussano me? Lasciatemi stare Sono un povero uomo Perchè focussate me? Pai che mi ha fatto un grab ragazzi Da qua qua Mostruoso Wow Wow Try to end Please Wow Veramente Sono 3.13 sono Sono un martire in questo game Un martire sono Vi dico Ok Ho sbagliato Pensavo la ward fosse distante Perchè Perchè lo mi avete visto Con la bocca aperta Un momento di smarmellare Di funghi Qualsiasi posto Ci sia Low damage Ho finito di usare St'arma Ok Questa è più buona Che paura che ho preso Ho preso molta paura Wow Ma quanto forte è quel tipo C'è quanto fidato è Ho detto Va Mi pare la bella ulti così caricata Andiamogli addosso Wow Ora di registrato What the fuck La scelta di build Un po' Pinabile Ora deve avere i boots giusti Qua 100 gold li faccio In due secondi Devo stare back lì Incevamo il game Sto facendo molti errori Cosa buona è che Teemo full build Quindi ora I danni che fa Sono letteralmente Vergognosi Più ulti Intendo eh Un po' wow ma veramente è full build lux ma come ha fatto a resistere? full build lux ragazzi! col rabbo non è questo non l'ha one shuttato attendiamolo devo fare un attacco Q gg riesco a fare una kill? neanche neanche io non sono riuscito a fare 4 15 17 però abbiamo portato a casa il game questa è una lezione molto importante a voi players una lezione molto importante questa e andiamo e portiamo a casa anche questa e signori miei questo era un altro episodio della swap challenge dove andiamo a giocare top lane con una di carry questa è la nostra serie dedicata interamente al canale youtube di star casino gratis mi raccomando iscrivetevi al canale guardate il loro profilo instagram molto carino molto curato ci sono gli oroscopi veramente carino e scaricate l'app gratuitamente dai vostri store noi ci vediamo al prossimo episodio della serie ciao 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 ciao